Futuro e digitalizzazione, tutto questo è Campania 2020, connettività, innovazione e competenze digitali. Manifestazione che si è tenuta nella mattinata dell'8 maggio all'autorium dell'Università Federico II di Napoli. Al dibattito sono intervenuti il Rettore dell'Università, Gaetano Manfredi, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l'Executive Vice President Strategy Innovation di TIM, Mario Di Mauro, l'amministratore delegato di Cisco Italia, Agostino Santoni, e l'assessore all'innovazione, start-up e internazionalizzazione della Regione, Valeria Fascione. L'iniziativa ha affrontato due tra i principali temi più importanti della trasformazione digitale di territori e aziende in ottica impresa 4.0. L'obiettivo è stato quello di stimolare il dialogo con i cittadini, in particolare sulle nuove generazioni, sul ruolo che l'Europa riveste nel rilancio delle economie locali, dell'occupazione, della ricerca e dell'innovazione. Tra i momenti della giornata, oltre al suo menzionato convegno, si sono tenuti una sfida per lo sviluppo di app e servizi digitali, visite guidate ai laboratori e alle realtà innovative e formative del Campus Universitario di San Giovanni e una serie di workshop didattici sulle competenze digitali.